Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso sud tra Val d'Arne e Arezzo in direzione opposta tra Incisa Reggello e Firenze sud. I FIPILI restano rallentamenti per cantieri tra Ginestra ed Empoli Est in direzione mare e possibili disagi sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta. A Firenze intralcio al traffico per soste irregolari in via delle Porte Rosse. In riguardo al traffico ferroviario ricordiamo che dalle 3.31 di domenica 15 alle 2.30 di lunedì 16 maggio è indetto uno sciopero del personale di Trenitalia della Regione Toscana proclamato da diverse organizzazioni sindacali. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza, oltre loro i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!